La malala del premio Nobel Si è presentata all'Università di Oxford in jeans e stivaletti con il tacco. I trolls si sono subito scatenati sul web, ipocrita, non musulmana, fra poco si toglierà anche il velo, ecco perché le spararono. Meno. Malala Yousafzai si è presentata con un paio di jeans e stivaletti con tacco al primo giorno di lezione ad Oxford, dove è stata ammessa per studiare scienze politiche, filosofia e decolazione. La sua foto con questa mise è stata pubblicata in Pakistan ed ha subito scatenato i trolls del web, che ipocrita, indossa i pantaloni. Può chiamarsi musulmana? Quanto manca al momento in cui si toglierà il velo? Ecco perché le puntarono una pallottola alla testa molto tempo fa. Altri l'hanno invece sostenuta, Malala Yousafzai fotografata con i jeans, e gli haters infazziscono. E questa mentalità che segna il declino di nazioni e società, la gente va fuori di testa più ora che Malala mette in jeans di quando le spararono. Le nostre priorità dimostrano perché siamo i peggiori nemici di noi stessi. Divenne simbolo dell'opposizione al regime talebano, dopo che un militante le sparò al ritorno da scuola nel 2012. A 17 anni, Malala è stata la più giovane vincitrice di un Nobel per la pace. A 17 anni, Malala è stata la più giovane vincitrice di un Nobel per la pace.